Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso sud tra Rioveggio e Pian del Voglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 18. Per la mobilità troviamo rallentamenti per traffico sempre in A1 in direzione nord tra Calenzano e Via 1 variante. Regolare il traffico altrove. Ci spostiamo sulla statale 12 dell'Ametone del Brennero dove troviamo chiusura provvisoria nelle due direzioni per Frana al chilometro 69-150. Ci troviamo all'altezza di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia. Deviazioni in loco. Per il trasporto pubblico locale per Frana sulla SR325 segnaliamo modifiche al servizio di autoline toscane, in particolare per la circolare per raggiungere la stazione di Vernio. Sono previsti i collegamenti con la stazione di Vaiano, invariato il servizio scolastico delle aree interne, mentre rimane limitata la linea 214. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.